Buon 8 maggio, venerdì 8 maggio, buona giornata e con voi che ascoltate voglio condividere tre aspetti che Papa Francesco ha sottolineato nella Messa di oggi, la vicinanza, la verità e la speranza e spendiamo la nostra giornata in un'attenta vicinanza nei confronti dell'altro, indipendentemente dal numero di parole che usiamo, può esserci anche il silenzio, ma che sia una vicinanza nella mitezza, la quale ci porta inevitabilmente all'ascolto della verità, una verità che contiene in sé l'essenza della vita, non è una verità formale, è una verità autentica che osa dire anche la sofferenza oltre che la gioia e in questo coltiviamo la speranza, qualunque sia il nostro stato d'animo della giornata, quindi stiamo insieme al prossimo anche in silenzio, in verità e naturalmente con il sorriso costantemente generato dalla dimensione della speranza. Buona giornata.